Il mio nome è Silvia e ho il piacere di darti il benvenuto a Ocean Space. Siamo a Venezia, nella ex chiesa di San Lorenzo, una chiesa sconsacrata riaperta grazie a una poderosa operazione di restauro. Ocean Space letteralmente vuol dire spazio-oceano e ha aperto nel 2019. Ma che cos'è? Un centro polifunzionale che pensa alla salvaguardia degli oceani attraverso l'arte contemporanea, creato e guidato dalla TBA 21 Academy. Come? Attraverso mostre multidisciplinari, tavole rotonde, attività per adulti, giovani e bambini. Per tutti. Perché a Venezia? Perché Venezia è una città costruita sull'acqua e rappresenta il simbolo dei cambiamenti climatici, dell'innalzamento del mare e delle questioni contemporanee più urgenti. Ocean Space vuole costruire un progetto insieme a te. Vuoi saperne di più? Sabato 31 ottobre lo presenteremo a Venezia. Ma come si chiama? Abecedarium, l'oceano in lingua dei segni. Un'anticipazione di che si tratta? Costruiremo insieme un glossario dell'oceano in lingua dei segni. Perché? L'oceano copre quasi tutta la terra ed è ancora quasi del tutto inesplorato. La nostra vita dipende dall'oceano, dall'aria che respiriamo al cibo che mangiamo a quello che indossiamo. Ma l'oceano è in pericolo anche a causa nostra. Tutti siamo chiamati a dare il nostro contributo. Se poco ne sappiamo, come possiamo sentire l'urgenza di intervenire? Dobbiamo agire, altrimenti questo potrebbe diventare il livello del mare all'inizio del prossimo secolo. Grazie a tutti.